musica bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo brevissimo video io sono xyuder e ragazzi oggi stiamo affrontando le sfide della settimana numero 10 niente di difficili ragazzi non c'è neanche bisogno di fare dei tutorial potrete benissimo farle da soli ma volevo ragazzi farvi vedere il punto esatto della location la location esatta del nuovo standardo segreto della settimana numero 10 come avevo anticipato un paio di giorni fa la location c'è segnalata proprio dall'immagine di caricamento della settimana numero 10 ed è esattamente nel punto di congiunzione come leggiamo la in alto g8 g9 h8 e h9 che per la precisione ragazzi sono esatta è esattamente questo punto ragazzi eccolo qua come vedete g e h 8 e 9 il punto ragazzi è qua dovrebbe essere uno standardo segreto quello che avremo per questa settimana l'ultimo standardo della season numero 6 perché hanno fatto in alternanza il punto preciso preciso è praticamente qui quindi ragazzi vediamo un attimo di arrivarci con esattezza il punto preciso esatto è proprio questo e quindi vediamo se c'è qualche cosa che ci possa aiutare probabilmente la stella segreta si troverà qui vicino da qualche parte potrebbe anche essere sopra questo masso o comunque in una zona qua vicino l'importante ragazzi è recuperarlo è trovarlo e ovviamente ottenerlo per il nostro battle royale beh ragazzi questo video velocissimo spero vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale e noi siamo in live ciao grazie a tutti